Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, in questa lezione andremo a fare il download di SQL Server Express e andremo a fare il download del Management Studio. Allora, andiamo sul sito che vi ho mostrato nella lezione precedente, ok, che trovate anche adesso in descrizione e arriviamo praticamente qui dove c'è il nostro pannellino. Qui in altro troviamo Scarica SQL Server. Ad ogni modo, se voi andate anche su Google e scrivete Download SQL Server, ok, assicuratevi di leggere sempre da un sito della Microsoft, premete e praticamente arrivate sempre al download, alla pagina di download. Adesso lo facciamo dal sito principale, dalla nostra guida online del SQL, clicchiamo qua e ecco che ci porta la medesima pagina. Quindi adesso è praticamente il 7 novembre 2020 e la pagina è fatta così. Quando lo installerete voi, magari nel 2021 o nel 2022, la pagina è cambiata, però SQL Server Express è sempre la versione che dovrete andare a scaricare. Sicuramente l'installazione che vedremo poi anche successivamente sarà molto molto similare. Se per caso avrete problemi con l'installazione o mi scrivete oppure andate su mondobi.it e chiedete qualche informazione lì, ovviamente è un forum che frequento anch'io, oppure venite qui e guardate sulla parte di installazione e cercate di aiutarvi con i contenuti che vi dà la guida online. Però diciamo che questa è una pratica abbastanza tradizionale che non dovrebbe cambiare nel tempo. Allora qui lui ci propone praticamente di andare con SQL Server 2019 sul locale piuttosto che andare con un SQL Server 2019 su Azure, perché adesso questa è la versione che c'è disponibile sul mercato. Qual è la differenza di queste due cose qua, tra l'altro che nella lezione precedente non ve l'ho detta, perché SQL Server potete installarlo sul vostro PC, ma potete utilizzarlo anche in cloud come servizio. E questa non è una cosa da poco, perché se andate ad acquistarlo sul cloud, ovviamente la macchina è tutto owner di Microsoft, mantenerla, farla funzionare e tutto quanto, quindi ha un costo differente rispetto a quella sul vostro PC personale che dovete installarvi, dovete mantenervi, dovete farla funzionare, è una cosa diversa. Quindi anche qua, se un domani dovrete fare un upgrade o acquistare il SQL Server, valutate quale delle due opzioni andare ad acquistare. Qui poi anche aziendalmente ci sono tante tematiche dietro che ci sta sul vado su cloud piuttosto che lo installo. Questa è una valutazione che sicuramente dovrete fare voi. Diciamo che più o meno sono equivalenti, probabilmente quelle prossime versioni saranno equivalenti anche perché il futuro comunque è di andare tutto su cloud. Quello in locale, per quanto ne so, dà qualcosina in più ancora oggi, però non penso sarà così ancora per tanto. Il cloud dà una potenza sicuramente maggiore anche per la gestione dei big data e attendere, ripeto, sarà probabilmente il futuro, sarà tutto in cloud su servizi che forniscono appunto le aziende che costruiscono questi software come la Microsoft. Poi se scrolliamo, vedete, troviamo la versione Develop che, vi ricordo, è la versione che vi dà tutto quello che vi dà l'Enterprise, quindi potreste vedere tutte le future dell'Enterprise, però non potete usarla come ambiente di produzione nella vostra azienda, altrimenti siete fuori legge. La potete scaricare per fare dei test, vedete, è un'edizione completa e gratuita che può essere usata come database di sviluppo e test, sviluppo e test in ambiente non di produzione. Attenzione a questa cosa qua, però vi danno la possibilità comunque di provarla, quindi anche questo secondo me è una cosa da parte di Microsoft veramente eccellente perché vi danno il download e funziona tutto. Quindi io adesso non uso questa perché non voglio farvi vedere questo ambiente qua, voglio farvi vedere l'Express che comunque ha i suoi limiti, in modo che comunque possiate effettivamente poi lavorare su questo tipo di ambiente. Se scaricassi la Develop vedreste tutte le fiche dell'Enterprise e magari non mi rendo conto che vi sto insegnando una cosa che poi sull'Express non c'è. Quindi ecco qua la Express e quindi eccola qua. A questo punto noi andiamo e la scarichiamo, sì, scarica un file Excel. Perfetto, intanto lo scarichiamo, poi nella prossima lezione andremo ad installarla. Dopodiché andiamo giù, scrolliamo ancora, ok? Adesso qui è tutto nella stessa pagina, poi se in futuro quando vedete questo video non vedete queste cose qua comunque scrivete il nome del software da Google e salterà sicuramente fuori perché sono i tool principali della Microsoft. Qui vedete c'è scarica SQL Server Management Studio, è quel tool che vi dicevo che ci serve per accedere all'istanza di SQL Server. Quindi faccio un bel contro e premo così mi si apre un'altra pagina qua su. Arrivo qua, ok? Vedete qua mi spiega un po' che cos'è. Vedete è un ambiente integrato per la gestione di qualsiasi infrastruttura SQL da SQL Server, la database di Azure perché ovviamente questo mi serve anche per collegarmi al SQL eventuale che potrei acquistare in cloud su Azure. Quindi SQL Server Management Studio SSMS offre gli strumenti per la configurazione, monitorare e amministrare le istanze di SQL Server e database eccetera eccetera. Possiamo vedere anche diverse cose attraverso questo strumento, ve le farò vedere nelle prossime lezioni. Ad ogni modo eccolo qua e lo scarichiamo. Anche questo 652 MB, vabbè lo scarichiamo. Poi torniamo sulla pagina di prima, ormai che ci siamo, vediamo anche il download dei driver. Qui ce ne sono di diverso tipo, vedete? Ci sono i connettori per il nostro SQL che sono quei connettori appunto che permettono ai nostri tool di frontend o anche Microsoft Access o qualsiasi altro tool di potersi collegare a leggere quello che c'è dentro a SQL Server. Quindi questi qui, vedete, dovete fare qualcosa in Python, dovete scaricarvi il driver di Python, dovete fare qualcosa con Ruby, questi sono linguaggi web, dovete scaricarvi il driver di Ruby. Node.js, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, dovrebbe essere quello che mi permette di collegarmi con React. Quello che ci interessa a noi è quello ODBC driver, ok? Cioè quello OLEDB, ad esempio in Excel troviamo l'OLEDB, però noi andremo a installare un driver ODBC, quindi andiamo qui, premiamo qua e arriviamo qui alla versione, ecco qua, come ricordavo c'è ancora, ecco questa è aggiornata il 31 luglio 2020, questa qua è una cosa che devo aggiornare anche nei miei sistemi allora perché hanno rilasciato una nuova versione. Ecco qua, scarica il driver, quindi ogni tanto magari ricordatevi nel corso degli anni, se vedete questo video magari nel 2022 oppure lo vedete adesso, ricordatevi magari tra ogni anno, dateci un occhio se rilasciano una versione aggiornata dei driver perché ovviamente si tira dietro delle future che vanno ad ottimizzare il driver in modo da poter leggere nel miglior modo possibile il dato che sta nel SQL perché poi anche i sistemi operativi vanno avanti, ricevono aggiornamenti, l'hardware cambia e quindi il connettore è importante averlo sempre aggiornato per avere un flusso di dati efficiente, quindi qua ovviamente vi da una descrizione, vi fa vedere l'installazione su Linux, su Mac, se utilizzate un Mac poi come connettersi qua c'è un po' una guida che vi spiega un po' tutto, vedete Linux e Mac, funzionalità e Windows poi io vi farò vedere un po' tutto in ambiente Windows, però se utilizzate un Linux o un Mac più o meno sarà la stessa roba però diciamo che anche qua trovate un po' tutte le informazioni, ad esempio come installare il driver di PC io ve lo farò vedere in ambiente Windows se dovete farlo in Linux vi rimando direttamente alla guida online perché ovviamente se vi faccio vedere tutto 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 non finirai più anche perché non li conosco tutti i sistemi e quindi sarebbe difficoltoso qui vediamo anche che c'è la connessione al BCP, questa è una bella cosa che vedremo a fine corso che mi ricordo più se l'ho messo su questo corso, sul corso di MS Access, ma comunque questa qui è una cosa potentissima che ci permetterà, è un componente che va installato anche questo, lo faremo alla fine che ci permetterà di scrivere dei dati che sono fuori dal SQL all'interno di SQL perché li dobbiamo anche trascinare dentro al SQL i dati a un certo punto e questo è un sistema, un connettore che ci permette di sputare dentro, di inviare i dati all'interno del SQL a pacchetti veramente alti e in via dati veramente molto 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 veloce comunque lo vedremo più avanti bene, allora qui diciamo scarica il driver arriviamo su questa pagina e qui scegliamo la versione del driver da scaricare allora ipotizzo che abbiate tutti quanti un ambiente a 64 bit quindi installiamo l'X64, se avete un ambiente a 32 bit scaricherete il driver X86 ipotizziamo, installo il mio SQL server in una macchina, quindi in un server aziendale piuttosto che nel mio computer locale potete fare un po' quello che volete installate il server e quindi nel server magari c'è installato una versione 64 bit poi utilizzo il mio PC che è a 32 bit quale driver devo installare nel mio PC? perché il driver va installato nel PC che si deve connettere al SQL ovviamente il driver che deve essere installato nel computer è quello relativo ai bit relativi al proprio computer se poi un altro computer da un altro collega è a 64 bit il collega si dovrà scaricare gli ODBC a 64 bit ipotizziamo che abbiamo il nostro SQL su cloud oppure ce l'abbiamo su una virtual machine in cloud allora in quel caso lì magari ad esempio com'è strutturata la struttura che ho io al lavoro il SQL è installato su una macchina, una virtual machine in cloud e poi c'è un'altra macchina dove centinaia di utenti si collegano a questa macchina quindi io cosa ho fatto? ho fatto l'installazione per tutti, una tantum su questa macchina quando gli utenti si collegano a questa virtual machine in cloud quindi non usano il proprio PC il proprio PC lo usano per collegarsi a questa macchina in remote desktop che sarebbe questa cosa qua remote desktop vedete connessione remota qui cosa si fa? si mette l'indirizzo della macchina al quale volete collegarvi si apre una finestra e assomiglierà di lavorare con il proprio PC ma in realtà state utilizzando magari una macchina che sta su in Olanda sul cloud di Microsoft quindi diciamo lì ho installato il driver e ho installato una tantum per tutti quindi potete scegliere anche questa cosa qua piuttosto che non vi potete permettere un cloud avete delle macchine in azienda installate il SQL Server in una macchina a parte mettete tutto in rete e nei vostri singoli PC vi installate il driver ad ogni modo io adesso scarico quello a 64 bit nel mio PC non c'è installato niente di queste cose qua quindi nella prossima lezione andremo a installare questi tre componenti bene con questa lezione è tutto spero sia stata di vostro gradimento come sempre lasciate un like se la lezione vi è piaciuta magari iscrivetevi anche con il bottone rosso che sta qua sotto se non lo avete già fatto trovate il link di download di riferimento che ho utilizzato per arrivare su il link dove scaricare i vari componenti e vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione ciao ciao